Questa collezione nasce per il mio amore per la poesia. Luisa Casati, la marchesa a cui è dedicata la collezione, è stata la celebre amante di D'Annunzio ed era una donna che nei primi del Novecento in Italia, nella Venezia storica dei primi del Novecento, ha sfidato quello che era il costume italiano fino ad allora. Quindi si spoglia, taglia i capelli e crea un look completamente differente dalle donne italiane che fino ad ora l'avevano proceduta. Lei è stata la musa ispiratrice di Boldini, un celebre pittore italiano e sulle tavolozze dei colori di Boldini troviamo il bianco e il nero ed è un anticipatore del bianco e nero della fotografia e poi c'è tanto verde e arancio, gli abiti escono come delle pennellate sulla passerella. Io penso che in questo momento storico in Italia mi sia collocata in un momento particolare dove l'alta moda italiana sta subendo delle grandissime mutazioni e il mio prodotto è in forte crescita, quindi sono veramente fiduciosa affinché l'alta moda italiana possa sempre di più salire e sbarcare anche nel mondo estero con grandissima importanza. Con tanto lavoro, questo è un lavoro come tutti ovviamente dove non si finisce mai di studiare e di imparare. Tanta umiltà e tanta professionalità credo siano alla base del mio successo. Grazie. Thank you very much.